Creatrice assieme a Luca che mi assiste nella parte tecnica del sito costruirecartamodelli.com con Marilyn Fashion. In attesa dell'estate e con questi nuovi video ci divertiremo assieme modificando con dei semplici tagli lo stampo base dell'abito a tubino il cui video è già stato pubblicato su YouTube ma che comunque velocemente ripeteremo la teoria e creeremo una serie di abiti o casacche o camicette con vari tipi di ricettura. In questo video vi volevo proporre questo tipo di abito con l'ingrocio, la scollatura